dai motore dai motore non ti tremano le mani? bilanciato bene perfetto assomiglia moltissimo al fox come volo c'è troppo comando cosa? hai troppo comando? lo sapevo che era nervoso perché già lui era prima però in più ci ha accorciato le ali se ci facessi due wing attreggimenti più larghi sarebbe meglio quando hai dato il motore prima mi sono cagato addosso ho detto minchia non sale anzi scendeva poi ci ha dato la cabrata intanto che non prendi i giri giusti tende a scendere poi sale hai fatto un turbo glider non sei contento? è un po' instabile secondo me se cos'è secondo me manca forse un po' di piombo poi c'è troppo dici? tira a prendere sul muso quando lo affondo allora c'era non c'è troppo poi tira da morire su un lato come se ci fosse più peso su un'area rispetto a quell'altra però sta su con una scoreggia di bacca ragazzi voglio cercare ma buono dai facciamo il tuo Marcella voglio il volo normale per favore petta